Ragazzi oggi la intro la devo fare con l'iPhone perché l'iPad è fottutamente scarico in tutti i casi Il video di oggi è abbastanza di cazzeggio però è una figata stratosferica quella che andiamo a fare Tipo con le lead Vabbè vi lascio il video Poi mi raccomando l'episodio, il prossimo episodio da non perdere assolutamente perché la farm Di cui poi mi è venuto in mente durante il video è qualcosa di clamoroso e bellissimo Quindi mi raccomando da non perdere Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo arrivati su Minecraftita quinta stagione Devo muovere decisamente, molto velocemente Cioè io mi devo muovere oggettivamente perché è tardi, perché devo postarvi il video E perché ci sono alcuni miei amici che mi stanno mandando messaggi minatori da circa due ore Perché io devo andare, cioè dovevamo partire con loro circa due ore fa Poi io ho avuto da fare e cazzo sono ancora qua Che vabbè fotte sega insomma questo non me ne frega un cazzo lo so Però io ve lo racconto uguale Ok risposto all'ennesimo messaggio minatorio detto questo Che cosa dobbiamo fare oggi? Allora ragazzoli Sono successe diverse cose Tra la giornata di ieri e quella dell'altro ieri E le massime di ieri ho dato un altro esamone Tanta roba Grande, perfetto Sono molto felice di come sia andata Ma anche questo penso sia oggettivamente relativo Per quanto riguarda il nostro gameplay di Minecraftita Sì, le massime molto molto relativo Perché non è che porta grandi benefici Al canale, cioè a Minecraft Le massime a me sì, ma va bene lo stesso Ora, altra cosa Avete visto Pokémon GO? Che figata Meko Sì lo so è una cosa eccessivamente figa È bellissimo Giro meraviglioso Non so se mai riuscirò a fare un Perché ho portato così Non è gran che non è Cioè o vado in giro con la GoPro Ma sembra abbastanza improbabile Che cazzo Ok, devo inventarmi qualcosa di estremamente figo Che sia non troppo lungo E in tempo eccessivamente breve Allora che cosa cazzo possiamo fare? Non lo so, non c'è niente da fare breve qua Allora no, ok Volevo andare Più che altro perché voi siete incazzati talmente tanto Ah, il calderone Allora Aspettate Perché lei massima voi mi avete detto Guarda, free Rimetti il calderone come l'altra volta Ah Oddio Aspettate 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 Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando È arrivato Perfetto Oddio Che cosa mi era migliore Adesso che faccio quelle cose Che voi dire Prima dove cazzo le trovi queste cose? Ok No, non è mia Me l'hanno suggerita Non so a chi me l'ha suggerita Però io l'ho modificata Nel senso Me l'ha scritta un iscritto Poi mi è venuta in mente Di modificarla un pochino E rendere il tutto eccessivamente figo Adesso mi serve questo cavallo zombie Collabori un po' Collabori nel senso che deve Ah, io lo posso cavalcare Posso cavalcare il cavallo zombie Posso saltare Posso cavalcare Sì Ok, so cosa fare Ah, l'hai già domesticato? Sì, l'hai già domesticato Mi serve una sella Mi serve una sella Ragazzi, siete davvero pronti Per vedere quello che sto per fare Vi giuro qualcosa che merita tantissimo Tac 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 Ok, perfetto E va anche oggettivamente veloce Bene Discretamente veloce Ora Mi serve un po' Un punto Un punto d'attracco Un punto per attaccarlo Un punto Per fare questa roba qua No, qui c'è già un mob brutto Eh, allora Attualmente facciamo la cafonata E lo mettiamo qua La cafonata consiste Perché mi sei smontato? Ok È un casino fare così con i cavalli Vi giuro, non so se sì Salta Ok Davvero Cioè, devo fare una roba Così è terribile Ok Ah, capito Che figata Oddio, in F5 Mettiamoci un attimo Ok, sto facendo un pillar Sopra un cavallo Che è qualcosa di Eccessivamente figo Però Ci riproviamo Allora, aspettate No, perché non salti Cazzo Prima riesco a metterne tanto Allora, se lo stronzo cade Sono cazzi Però linee massima Questo è quello che ho fatto Ho portato il cavallo a questa altezza E ho alzato il tutto Adesso dobbiamo fare un'altra cosa Un po' più difficilotta Ok Puoi fare Anche più basso Tipo E lo mettiamo qui Bim Hop E poi ci mettiamo un blocchino sopra Se riesco Riuscirò mai Non probabilmente no Ma va bene lo stesso Facciamo così 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 Questo uno sopra ce lo devo mettere per forza Perché è più carino No dai Su Eccolo qua Perfetto Ci mettiamo un paio di torcine Tutte intorno Che fa un pandan E poi E poi E poi Ok perfetto Questo è fatto So che non sapete cosa io stia facendo Però fidatevi che adesso Vi Aiuterò io Perché non mi fai legare il cavallo Cioè ti giuro Non me lo fai Cioè tu non mi fai legare il cavallo zombie Ho fatto tutta sta fatica E non funzioni Stai scherzando Spero Cioè lui sta scherzando Cioè tu non me lo fai legare Cioè io ho fatto tutta sta fatica E tu non mi fai legare il cazzo di cavallo Non è possibile No vi giuro No il cavallo tu lo puoi legare Il cavallo Cioè tu non puoi legare un cazzo di cavallo zombie Ma ti rendi conto Che cosa triste Cioè non ci credo Ragazzi Non si lega Non c'è verso Non puoi legare un cavallo zombie Questo mi rende No dai non ci credo Ma cazzo il cavallo Perché non puoi legare il cavallo A mali est 3 2 1 A mali estremi estremi rimedi Iniziamo un po' con questi Proviamo se funziona Il cavallo l'ho dovuto Buttare giù purtroppo Ma vabbè non è morto Cioè quando ce l'ha con me Minecraft Vi giuro No dai non è possibile Oh ma che cazzo Neanche un po' lo mi ha spawnato Eccolo qua il primo E lo attacchi qua sopra Ok è il primo è andato Mi sembra un altro Bellissimo Attaccati qua sopra Perfetto E 2 Dai un altro Un altro e son contento Poi ok Perfetto Già va bene Così E allora E andiamo così Forza Perfetto Già sono 4 Dammi il quinto Dammi il quinto Dammi il quinto Non c'è il quinto Va bene Adesso iniziamo a levare tutto il ferro Guarderete la cosa Che è estremamente figa Ci siete pronti Aspettate Aspettate Questi oscillano poco Purtroppo Perché sono oggettivamente Molto piccoli Se ci avessi messo Che ne so una mucca Avrebbe oscillato di più Ma il concetto È sempre lo stesso Tac Tac E tac Eccoli qua Non è bellissimo Non sono meravigliosi Tipo lì Comprendo Comprendo Che non sono utili al gameplay Ma vuoi mettere Stare qui E guardare una roba del genere Cioè no Scusate tanto Questi ne puoi mettere tantissimi E ti puoi fare tipo Un lampadario Con sti cosi Non è bene Non è affascinante È meraviglioso vedere dei polli Che penzolano in queste condizioni Precarie E lo potete fare con qualsiasi tipo di mob Nel senso non è problematico Roba varia Con gli zombie Non so se è possibile farlo con i mob Quegli ostili No infatti Non me li fa prendere Con legaccio Peccato Peccato Voglio provare l'ultima cosa Con i villager Magari potrebbe essere carino Vedere un villager appeso Tipo Eh questo sarebbe un po' più brutto Come cosa Nel senso tipo impiccato Non è bellissimo Però ci voglio provare Cioè soltanto per curiosità mia Vediamo se funziona Non riesco a prendere questo Proviamo a prendere quest'altro Che scappa Perché scappi Aspettate eccolo No Non te lo fa prendere No esatto Anche se premi shift Cioè se premi shift Lui te te lo da uguali Quindi no Soltanto mob pacifici E per forza i polli Poi questi cresceranno E linea massima Resteranno Diventeranno polli Grandi appesi Infine Parlando un po' di casa Perché abbiamo cazzeggiato Anche abbastanza In questo episodio Però si vedono anche da qui I polli Oh a me piacciono Dite quello che vi pare Mi piacciono un sacco Allora 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 Qua c'è la farm Farm che Stavo pensando Ma se io dovessi Tenere sotterranea Cioè perché basta un livello Linea massima Sono 4 farm insieme Una produce davvero tantissimo 4 Più figurate Cioè non serve Una quantità di canne a zucchero Che è così improponibile E che cazzo ci faccio Dopo un po' non ci fa nulla Quindi Penso che il primo livello Lo abbatterò Il resto Lo possiamo tenere Per quanto riguarda Questa zona Si sta allargando abbastanza bene Però certo Dobbiamo scegliere un inverso La direzione di questo posto Io penso Di poterla fare Tranquillamente E devo espandere Ancora un po' Però perché Voglio riprendere Tutta Mi stacca i pobbi Fermi Fermi tutti Signori Fermi tutti Perché io vi devo dare Una news Di cui mi sono completamente Dimenticato Che allora Mi avete scritto nei commenti Free 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 E ancora free Fai la farm di creeper super caricati E io ovviamente dall'alto Della mia esperienza Che ho detto Vabbè Ragazzi ma che cazzo dite La farm di creeper super caricati È oggettivamente improbabile Invece no Invece no Perché ho trovato Allora non so Su che logica Possa funzionare Però Da quanto ho capito Funziona E da quanto ho capito Funziona Farò degli studi approfonditi Per spiegarvi bene Come funziona E insomma Spiegarvi oggettivamente Tutto Vi dirò Perché funziona Come funziona E quanto funziona Detto questo Mi serve una vasta zona Una vasta zona In cui però ci sia Non il deserto Perché dobbiamo ovviamente Ottenere temporali Ottenere temporali Significa farla in questa zona Ili è massima Per forza Perché È una struttura Abbastanza grande Io non posso Cioè non ho neanche Lo spazio materiale Fa una roba qua Perché poi Mi andrebbe a rovinare Davvero tantissimo Il tutto Cioè vi immaginate Che cosa brutta Avere una roba Non si può fare Ovviamente non si può fare Quindi l'idea sarà Ovviamente farla lì Ci andremo a Dovrò spianare Tutta la zona Dovrò prendere Tanta netherrack Non so se serve Proprio la netherrack Dovremo prendere Tanti creeper Ci servono Tante name tag Quindi significherà Tante ore di pesca Va bene Non è un problema E andremo a fare Questa roba qua Signori Sarà qualcosa Di estremamente figo Penso già Nel prossimo episodio Potremmo andare ad affrontare L'inizio di questa farm Il sistema di Poi smistamento Lo andremo anche a fare Successivamente Ma basta avere Un sacco di Creeper super caricati Cioè L'idea è anche Andarci a costruire Un laboratorio Con i creeper super caricati Vi immaginate Che cosa possa venire fuori Beh io Lo lascio soltanto immaginare In tutti i casi ragazzi Non so che per questo video Posso essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di averciato Un bel video Vi lascio se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se vi avete già fatto Di condividere il video Su facebook Mi raccomando Posso essere in tutti i link In descrizione Facebook Instagram Telegram E noi ci vediamo Come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi